chi dice che ci sono soltanto i colori ci sono le sfumature lo stile Missoni è arte trasformata in capo d'abbigliamento non è solo le sfumature tutto ciò di Missoni è radicale, è davvero rivoluzionario Missoni è arte trasformata in capo d'abbagliamento 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 è la fine dell'inizio di un esperimento è il tentativo di utilizzare la moda come spazio appunto come laboratorio sperimentale e questo è il mio esperimento il narrarlo così e presentarlo così alla stampa al fuori e facendo introdurre un occhio diciamo da guardone all'interno di quello che è il meccanismo di una campagna pubblicitaria personalmente mi sembrava interessante in quanto elemento di diciamo un elemento che dissocia la narrazione della moda attraverso lo show, attraverso la rappresentazione di se stessa l'abbiamo 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 l'abbiamo